Affermare che trasporti marittimi e fini turistici che collegano Trieste e Grado, Grado e Lignano, Trieste e Monfalcone in questi mesi abbiano fatto acqua sarebbe forse troppo seppur metaforicamente calzante. Ma di fatto la stagione estiva in questo senso non è stata così brillante. Non ha riscontrato un grande appello la tratta fra Trieste e Monfalcone. Ha vissuto diverse difficoltà quella fra Trieste e Grado. Complici anche l'incidente avvenuto a largo dell'Isola d'Oro il 12 giugno che ha messo fuori uso l'imbarcazione audace rilevando poi la difficoltà nel reperire un'imbarcazione alternativa. Il presidente della regione Massimiliano Fedriga lo ammette senza giri di parole. Serve una maggiore attenzione con verifiche approfondite e soprattutto è necessario avere sempre pronta una valida alternativa. Quando, e può succedere non sia mai, capitano degli imprevisti. Tutti aspetti che qualcosa hanno insegnato. Lo insegna a fare verifiche approfondite, insegna ovviamente poi ad avere la consapevolezza che poi purtroppo gli imprevisti possono capitare. Mi insegna anche a dover avere dei paracadute di sicurezza per riuscire a garantire i collegamenti. Penso che i collegamenti Trieste e Grado siano un documento maggiormente frequentati su quale ovviamente dobbiamo garantire la continuità. Non c'è stato un paracadute quest'anno fondamentalmente? Mi sembra evidente che la società non aveva un'alternativa all'imbarcazione che non è stata potuta più essere utilizzata.